Nessuna spaccatura, solo normali scosse di assestamento. Per l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Leone, le dimissioni degli assessori Caggia e Iacono hanno prodotto un dibattito interno ai singoli gruppi, PDL, territorio, UDC, teso alla disamina della situazione politica attuale. Il confronto sicuro, sostenuto sempre con spirito costruttivo e nell'interesse prioritario della città, ha riguardato vari ambiti ma soprattutto si è incentrato sulle azioni da mettere in campo per offrire risposte ad un territorio che sta vivendo un'importante crisi economica e politica. E sempre nel primario interesse della collettività e per garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa, il gruppo PDL, territorio, annuncia Leone, esprimerà a breve i nomi dei nuovi assessori che andranno a integrare, quelli già presenti, insieme ai quali, attraverso anche una revisione delle deleghe già condivise da tutti i gruppi, dovranno impegnarsi a fornire risposte concrete ai bisogni della collettività. Ovviamente la riflessione dei gruppi ha riguardato anche le prospettive future in vista delle amministrative del 2013. Infine Leone assicura che non è avvenuta alcuna spaccatura all'interno del gruppo PDL, territorio, la discussione è stata franca e cristallina e priva delle animosità di cui si legge. Non esistono inoltre accordi tra l'Udc ed altre forze politiche o sociali circa l'appoggio a candidature già confezionate, ne esistono al momento candidature di alcune, in quanto le stesse dovranno scaturire dal confronto democratico.